questo video volutamente e stratosfericamente autocelebrativo sarà probabilmente anche l'ultimo che parla esplicitamente di me di claudio in vestiti fotografo e videomaker ma questo è il mezzo a me più familiare per farmi conoscere prima di dare ampio spazio ad altri fotografi ed altri artisti in generale su questo canale si parla di arte e comunicazione visiva parleranno direttamente gli artisti e gli addetti ai lavori se tutto questo ti cattura e ti cattura spero di ricevere da te le indicazioni per approfondire ciò che più ti appassiona